Internet è diventata parte della vita quotidiana di ogni bambino. Si da piccolo inizia a navigare in casa o a scuola. Appena a un telefonino, ma spesso già con il tablet, l'accesso alla rete diventa ancora costante e costituisce un legame con compagni, amici e familiari. Un educatore o un educatore dovrebbe intervenire proteggendo la navigazione così come protegge il bambino dal freddo, dall'infezione e dal traffico. A questo proposito, la mia idea è partita dalla necessità da parte del bambino di utilizzare tutto quello che le nuove tecnologie offre con la comunicazione, ma di attuarli in una piattaforma virtuale, dove può essere sempre controllato attraverso la vigilanza di educatori e genitori e che abbia comunque una comunicazione a sfondo educativo. Per rendere concreto questo concetto, ho creato un sito interno di una scuola fitizca, ovvero che non esiste, dove è possibile aprire una serie di servizi per lo studente, gli educatori e i genitori, in maniera tale che ogni bambino possa essere osservato, ma senza impedirgli di interagire e di esplorare gli strumenti mediali per comunicare con gli altri. In questo modo non si impara agli studenti solo il saper comunicare all'interno del contesto scolastico ed educativo con una cooperazione reciproca nella struttura docente, allievo e genitore, ma anche responsabilizzare l'uso degli strumenti mediali ad uso educativo e corretto. Iniziamo dunque la visione di questo progetto con questa immagine, che sarebbe la home, dove si può vedere al centro della pagina la foto della struttura con tutti i punti di contatto e a sinistra le opzioni di navigazione. Sotto ci sono le fasi interattive, ovvero il club del libro, che serve appunto per promuovere alla lettura e all'interazione dei vari punti di vista, l'autore del mese, che serve appunto per un accrescimento individuale dell'educazione, dell'educativo, e poi sulla destra un elemento per far coinvolgere i cibicetti. E in questo caso abbiamo usato le ricette delle varie mamme, abbiamo sempre ipotizzato queste opzioni. In questa sezione si possono notare le news della scuola, dove possono essere a disposizione per i genitori e alunni per notifiche, informazioni e tutto ciò che può essere importante per la comunicazione scuola-alunno-genitore. All'interno di questa sezione si possono notare l'elenco dei docenti che svolgono il loro mestiere all'interno della struttura, con tutte le generalità e punti di contatto per i genitori, per poter informare e contattare il docente in questione. Questo elemento è molto insignificativo per avvicinare la cooperazione reciproca tra educatore e genitore, per l'educazione dei propri figli e studenti. Nella parte con il nome materiale didattico può essere utile per mettere in evidenza file o materiale per gli studenti e per avere una sorta di amministrazione sia come visione della struttura intesa come azienda, sia come luogo dedito al diritto e allo studio. Questa sezione è il furco del progetto. La pagina divide ogni sezione in singole pagine dedicate dove è possibile accedere alla sezione ad un forum dove, anche se si ha la visibilità pubblica, potranno scrivere solo le persone che sono effettivamente iscritti alla sezione attraverso un codice di accesso. Infine, oltre agli alunni, potranno accedere in maniera libera i docenti per comunicazione di classe generale. In questa sezione si possono mettere in luci un link molto importanti per la comunicazione sport a studenti e genitore, ovvero il club del libro dove incentiva tutti gli alunni di leggere i libri di narrativa per i ragazzi per confrontarsi tutti insieme. è il blog Quaderni Bianchi, che è stato creato per incentivare gli studenti e porre loro questioni generali ed in maniera tale di diventare degli osservatori critici della realtà, comunque potendolo fare in uno spazio protetto davanti alla supervisione di genitori ed insegnanti. Questo è un esempio di incentivo all'arco-cultura con lo scopo educativo di comunicazione visiva e non verbale. Spero che il progetto sia stato di vostro gradimento e che sia stato evidente il ruolo educativo che gli strumenti mediali offrono in questa esposizione. Grazie per l'attenzione.